Voi, ministri d'inferno che ordite i crimini della natura, scendi pittanotte e ammandati nel più torbido fumo d'inferno, che la punta del mio pugnale non veda la ferita che implice nel cielo possa affacciarsi alla cortina di tenebra per gridare ferma! Non ho mai visto un giorno così brutto e bello, ma che creature sono mai queste, così grinzose e selvagge, da sembrare esserite, smonti del dito rugoso e viso peloso? Parlate, se potete. Cosa siete? Salve, mamma. Salve a te. Salve, mamma. Salve, mamma. Salve, mamma. Direttamente. Gli atti contro natura generano turbamenti naturali. Le menti infette rivelano ai cuscini sordi i loro segreti. Ha più bisogno del sacerdote che del medico. Sorvegliatela, tenete lontano da lei tutto ciò che potrebbe farle male. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.